E là bentornate, bentornati su Broken Stories. Oggi un tema complesso, molto complesso e cercheremo di affrontarlo in maniera sorprendente e post nerd, subito dopo la sigla. Prendo le mosse da un libro che consiglio alle intelligenze più curiose tra di voi. Perché è un libro difficile, ok? Ma prodigo di epifanie, di rivelazioni, di grandi wow, ok? È un libro che non è di narrativa, non è narrativa assolutamente, è un saggio, è un saggio filosofico del più grande filosofo contemporaneo americano. Grande in quali termini? Nei termini di una... è il filosofo più tradotto nel mondo dagli Stati Uniti. Ed è una mente eccelsa, eccelsa, ok? Il libro è questo. Breve storia del tutto, di Ken Wilber, edito da Spazio Interiore. Sì, mi interesso anche di queste cose. Ebbene sì, ok? Il link ve lo metto qui sotto, perché se volete acquistarlo potete contribuire, grazie alla mia affiliazione ad Amazon, al successo, al progresso di questo piccolo canale di divulgazione culturale. E fra le altre cose potete anche fare una donazione con il tasto super grazie o con il mio canale, la mia pagina Ko-fi, che vi linko sempre qui sotto in descrizione. Se volete avete tutta la mia gratitudine. Allora, parto da questo libro per riflettere con voi su che cosa? Un tema caldo, un tema molto attuale. Le intelligenze artificiali creative, le AI, che oggi sono un tema caldo, sono un tema molto attuale. Come sapete, il tutto è un po' venuto alla luce grazie a questa piattaforma che si chiama Me Journey, che minaccia, in un certo senso, per molti, di rimpiazzare la mano degli illustratori, degli artisti, di chi con le arti figurative si guadagna da vivere. Me Journey è molto interessante perché effettivamente grazie a questo prompt che consente di verbalizzare i propri desiderata, ecco che Me Journey in pochi secondi genera delle immagini estremamente suggestive, estremamente sorprendenti se volete. Forse un pochino tutte omologate, ma poi, magari diventando dei prompter molto abili, si può ottenere qualcosa di sempre diverso, di sempre interessante. E vediamo sui social che stanno imperando, si stanno diffondendo molte illustrazioni, molte interpretazioni creative dell'uso di Me Journey. Alcune davvero interessanti. Non è tanto l'illustrazione, ma magari la creazione di storie o di ipotesi creative prima difficilmente realizzabili, se non con molto, molto tempo, molto impegno, molto talento. Ecco, il talento, perché poi è questo, no? Il talento. Ma questa piattaforma e altre stanno veramente per rimpiazzare l'operato del talento umano? C'è un concorso, ho saputo dall'amico Musolino, scrittore che voi conoscete molto in gamba, e uno scrittore ha, in Giappone, a quanto pare, vinto il primo premio in un concorso di narrativa, con un racconto. Per poi, alla fine, una volta dichiarato vincitore, rivelare che il racconto lo aveva fatto scrivere a un'intelligenza artificiale. Quindi ha vinto, ha vinto un computer, rispetto, computer si fa per dire, un'intelligenza artificiale, ha vinto rispetto a tutti gli altri che partecipavano e che erano umani. E questo chiaramente fa pensare, turba, può far pensare soltanto, può turbare anche, ed è il momento qui di rifletterci un po' sopra. Perché io mi sono chiesto che cos'è che effettivamente mi fa pensare? Che cosa mi fa pensare? Io ho lavorato nel settore dei fumetti, in passato, ho anche pubblicato alcune cose come sceneggiatore, quindi ho conosciuto tanti fumettisti, ho conosciuto questi artisti, ho conosciuto anche artisti internazionali, andando per le fiere, parlando con loro. Stiamo parlando di genialità incarnate. Persone che con la matita, con degli acquerelli, con quel che volete, con gli acrilici, creano stupore, creano quella sensazione in noi che nell'uomo ci sia di più di quello che vediamo tutti i giorni. E poi arrivano le intelligenze artificiali e mettono in discussione questa ipotesi che ci sia in noi qualcosa di misterioso, di ineffabile. Ecco, questo ineffabile, questo misterioso è in discussione. Perché alla fine, se un algoritmo o un complesso sistema informatico che io non capisco, è in grado di emulare questa parte di noi, vuol dire che forse non c'è poi tutto questo mistero in noi. Non siamo altro che macchine, anche noi umani. E questo turba. Perché? Ok, qui lasciamo da parte tutto l'aspetto economico, perché in realtà la questione grossa con le AI, o IA se lo vogliamo dire in italiano, la questione grossa è che i soldi seguono i risultati, no? Vanno dove ci sono i risultati. Se i risultati sono prodotti da un'intelligenza artificiale, i soldi non seguiranno, non andranno più verso gli artisti, non andranno più verso gli umani, andranno verso... Ecco, dove? Questa è la grossa faccenda. Perché la politica è sempre indietro rispetto alla tecnologia. Soprattutto in questi anni in cui la tecnologia è parossisticamente veloce. Allora bisognerebbe interrogarsi rapidamente in termini politici, in termini economici, perché se tutti i soldi vengono drenati ancora una volta dagli esseri umani e vanno, chissà, soltanto polarizzandosi verso un'apice che non conosciamo, insomma, forse è meglio autoregolarci in maniera più efficiente, più efficace. Ma questo non è il tema del video. Il tema del video è che queste intelligenze artificiali ci stanno ponendo un interrogativo. Ma allora in noi c'è veramente questo misterioso quid che si esprime nell'arte, che trapela nell'arte. Noi lo intravediamo. Guardiamo, leggiamo un racconto, leggiamo un romanzo, guardiamo un quadro e pensiamo questo arriva da qualche parte. Non so da dove, ma so che questo luogo si trova nell'essere umano e solo nell'essere umano. Questo riflesso di qualcos'altro, forse. Questo mistero, il mistero dell'essere umano. E quindi che cosa? Eh, insomma, forse il suo spirito. Non sappiamo esattamente come definirlo. La sua anima. E qui si apre ancora di più un enorme universo di connotazioni. Anima. Che cos'è l'anima? Wow. Ok. Allora, se l'uomo ha un'anima e noi la possiamo, in qualche modo, possiamo farne esperienza attraverso le sue opere artistiche. Non solo, no, ma ovunque ci sia questo apice di misteriosa capacità di creazione. Ecco. Allora, arrivano questi cacchio di computer e fanno tutto l'oro e ci tolgono anche l'ultima illusione, forse, no? Anche se non siamo credenti in nessun sistema spirituale, religioso, eccetera, comunque ci fa piacere pensare che ci sia in noi questo ineffabile mistero, che quindi è il riflesso di un mistero più grande. Perché, ragazzi, che si sia noi incandibilmente materialisti, secolarizzati, eccetera, il piano spirituale esiste, è sempre esistito nell'uomo e ci deve essere un motivo, no? Il piano spirituale esiste. Possiamo ignorarlo, ma esiste. Basta che voi vi commuoveate. Cioè, se voi guardate un tramonto e vi sentite qualcosa di grosso che si scalda qui dentro, ecco, quello è il piano spirituale. Per quanto mi riguarda, quello è il piano spirituale, o comunque è l'indizio che esiste. Va bene. Allora queste AI mettono in discussione che noi si abbia qualcosa di speciale, che l'origine della nostra essenza sia speciale. Ok, adesso perché questo libro? Molto semplice. C'è qui qualcosa che mi ha veramente scosso tutto il mio impianto di valori quando l'ho letto. Ok? Perché ci ricolleghiamo subito alle AI. Le AI cosa fanno? Le AI creano, prendono un sacco di input, li vanno a raccogliere nella rete e poi velocissimamente, facendo calcoli rapidissimi della velocità e l'intelligenza veloce, la chiave, no? Ecco, con la massima velocità assemblano varie possibilità, le vagliano. Immagino che funzioni così alla fine. Le vagliano, prendono in esame diverse ipotesi, scelgono la migliore probabilità, eccetera, eccetera, mettono insieme il tutto e boom, fatto. Veloci. Il tempo è una funzione chiave, io credo, in questo ambito, perché un artista può farlo, anche lui nel suo cervello, nel suo sistema, vaglia una quantità enorme di possibilità e arriva a scegliere la migliore per creare quell'immagine. Che è riuscita perché tutta una serie di decisioni vengono prese in tempo reale mentre lui realizza l'immagine. Per arrivare a questo risultato, beh, insomma, anni e anni di studio, di vaglio e di tantissime ipotesi operative. E poi, alla fine, tutto questo diventa un naturale istinto creativo. Ma solo grazie a tanto, tanto lavoro, i computer, o meglio, le intelligenze artificiali, fanno tutto questo ma rapidissimamente. Ok. E allora torniamo, visto che qui si parla di scrittura, anche, di narrazioni, torniamo a questa famosissima ipotesi della... è un teorema, immagino. Fatemi controllare un secondo. E la... il teorema, sì, il teorema della scimmia instancabile. Conoscete? Allora, il teorema della scimmia instancabile, che era frutto del ragionamento di un matematico del passato, dice che... l'avrete sentito già in qualche modo. Dice che, dato tempo infinito a una scimmia, a uno scimpanzè fornito di una macchina da scrivere, ecco, se diamo tempo infinito a questa scimmia, che batterà i tasti della macchina, così, casualmente, a caso, ma se noi forniamo questa scimmia tempo infinito, prima o poi, è matematicamente sicuro che scriverà un'opera di Shakespeare. Cioè, la riprodurrà. Per puro caso. Questo teorema ha goduto di molto credito. Per lungo tempo. Fino a quando il biologo e divulgatore Richard Dawkins si è detto, vabbè, ma facciamo i calcoli veramente qui. Ma è proprio così? E allora lui l'ha fatto. E... questo libro riporta riporta non solo la riflessione di Dawkins, ma anche di altri che si sono cimentati con il mettere alla prova questo teorema. Ebbene, ecco cosa ci dice Ken Wilber. I calcoli hanno dimostrato che la possibilità che una scimmia produca un'opera di Shakespeare è una su diecimila milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni ripeto una su diecimila milioni di milioni di milioni di milioni di milioni di milioni quindi probabilmente potrebbe accadere in un miliardo di miliardi di anni ma attenzione qui stiamo parlando adesso andiamo all'origine di questo pensiero cioè l'universo che è un universo ordinato quello in cui siamo è nato per caso tempo infinito tasti da premere a casaccio perché questo ci coinvolge cioè noi siamo opera del caso tutto questo è opera del caso ragazzi lo so è vertiginoso in un canale che parla di narrazioni dark e immaginifiche non vi aspettate di norma questo tipo di di conversazione di analisi però ho pensato che potesse essere utile perché è di AI che parliamo parliamo di AI che scrivono di AI che creano e che disegnano quindi ok noi siamo dentro un universo ordinato ok e noi siamo il frutto di questo universo ordinato ma è nato per caso come con la scimmia io non vi sto parlando di religione qui vi sto parlando di razione razionalità di usare il cervello di fare i calcoli ed è quello che alcuni hanno fatto ok va bene quindi l'universo ordinato in cui viviamo potrebbe accadere in un miliardo di miliardi di anni ma l'universo non ha tutto questo tempo ha solo 12 12 miliardi di anni 12 miliardi di anni contro un miliardo di miliardi di anni ci rendiamo conto e questo cambia tutto ci dice Ken Wilber ci sono questi due scienziati Fred Hoyle e F.B. Salisbury che hanno fatto i calcoli e i loro calcoli mostrano in modo coerente che 12 milioni di anni non sono abbastanza neanche per produrre un solo enzima un solo enzima per caso in altre parole l'universo viene mosso da qualcosa di diverso dal caso ecco qua e qui si apre la voragine e qui io non so cosa dirvi so soltanto che ho letto questa cosa e ve la devo riportare perché mi torna in mente mentre rifletto sulle intelligenze artificiali che creano esattamente come l'uomo che creano con una velocità di elaborazione pazzesca basandosi su immagini preesistenti su qualcosa che noi noi abbiamo fornito loro quindi è una creazione secondaria non primaria ok va bene ma ecco cosa sto dicendo in realtà mi sto ponendo un grosso quesito e ripeto non si tratta di parlare di religione non fraintendetemi non c'è nessuno più laico di me ma qui è in discussione che quando nasce un'opera artistica da un essere umano ecco che ci sia in questo un valore intrinseco perché l'essere umano a quanto pare difficilmente è il frutto del caso c'è qualcosa di misterioso veramente nell'essere umano la domanda è appunto vogliamo rinunciare a questo mistero per sostituirlo con delle intelligenze artificiali che non hanno niente di misterioso è tutto spiegabile è tutto spiegabile tant'è vero che l'abbiamo creato è noi in un futuro l'intelligenza artificiale potrebbe iniziare a domandarsi ma chi mi ha creato beh risposta non sei il frutto del caso ecco a me sta a cuore forse questo che quando un artista umano genera un'opera questo sia il riflesso di un mistero che non ha proprio a che fare col caso mi dà le vertigini pensarci ora questo mistero per me è abbastanza importante per questo e credo che lo sia per un po' per tutti per tutti gli esseri umani anche per quelli laici come me cioè ok non voglio perdere questo mistero non voglio sacrificarlo del tutto vanno benissimo le AI per fare più in fretta ma qui in discussione è qualcosa di troppo grosso troppo grosso le AI sono molto piccole invece e poi c'è da dire un'altra cosa io non voglio non vorrei che delle AI creassero delle immagini ex novo utilizzando la mia faccia che è su internet e se un giorno verrà fuori una illustrazione creata con un prompt è venduta magari è usata per fini economici dove c'è la mia faccia io mi incazzo pensateci perché allora cosa devo fare devo togliere ogni immagine del sottoscritto da internet affinché non sia utilizzato per farci dei soldi a mia insaputa beh e anche questo forse è un tema no più concreto più superficiale più normale ma forse c'è da ragionare anche sui temi giganteschi come quelli proposti da Ken Wilber in breve storia del tutto un libro che consiglio appunto a chi vuole andare oltre a chi attenzione non ha assolutamente un approccio new age alla questione non ha assolutamente un approccio fondato su un nuovo neo pensiero magico che mi sta incredibilmente sulle chiappe no no lasciate stare tutte quelle robe no per me new age spiritualismo d'accatto non mi stanno proprio bene ma ragionare entrare dentro dei ragionamenti molto complessi grazie all'aiuto di menti molto sofisticati come quello di Ken Wilber allora sì mi affido perché tu sei un grande e mi aiuti e mi aiuti a districare degli enormi nodi nodi concettuali ok vedete voi io vi metto il link qua sotto lo so oggi oggi ci sono andato giù pesante con voi spero possiate apprezzare anche queste diramazioni di Broken Stories ciao a tutti da Flavio Truisi di Broken Stories di Broken Stories